Negli ultimi 15 anni in Ciociaria è diminuito drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro denunciati, ma non sono scesi abbastanza quelli mortali, che sono ancora tanti, troppi, in provincia di Frosinone. Lo dicono i dati forniti dall'ASL in occasione delle settimane sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla 2007 ad oggi tanto si è fatto in tema di prevenzione, anche perché i controlli sulle aziende, che pure ci sono, da soli non bastano. Sul numero di infortuni totali il risultato è stato notevole, perché in questa provincia abbiamo avuto il calo più significativo del Lazio, nettamente, probabilmente anche in Italia siamo tra i primissimi come calo infortuni negli ultimi 15 anni. Però ecco, abbiamo un po' il cruccio degli infortuni mortali, su cui dobbiamo lavorare tanto, vogliamo lavorare tanto e ovviamente ci aspettiamo anche per questo, da un momento all'altro, un calo, perché secondo me il fatto che vada avanti alla cultura della prevenzione debba per forza ottenere il risultato. Nella casistica degli infortuni sul lavoro denunciati rientrano diverse tipologie, da quelli su strada, quelli in itinere, fino a quelli per Covid, ecco perché bisogna fare un'attenta distinzione. È importante proprio riuscire a spacchettare i diversi infortuni, perché spesso si fa un po' un gruppo generale, si parla di infortuni sul lavoro anche quando non sono infortuni sul lavoro, quando dobbiamo vedere quelli che sono gli infortuni stradali in occasione di lavoro e poi quelli che sono gli infortuni in itinere. Purtroppo vengono tutti uniti questi infortuni, dobbiamo anche vedere appunto l'emergenza Covid che c'è stata, noi abbiamo un picco di infortuni del 2020, perché? Perché ci sono stati tutti gli operatori della sanità. La strada da seguire per la sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre quella che parte dalla formazione, è una parte importante, la gioca in questa sfida il mondo dell'imprenditoria. Ci verrà incontro anche il concetto di impresa sostenibile, impresa sostenibile che non è soltanto sostenibilità a livello ambientale, a livello comunque di governance, ma anche e soprattutto sostenibilità sociale, quindi rimettere al centro di tutto la persona, il concetto di benessere e di rispetto delle persone. Ma un ruolo in tema di prevenzione e formazione lo devono giocare tutte le istituzioni. Il contributo che devono dare il mondo della scuola e il mondo della formazione, perché credo che il superamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro voglia molta consapevolezza da parte sia degli imprenditori sia da parte dei lavoratori.